Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all'associazione DIRE, Donne in Rete contro la violenza, che è presente su tutto il territorio italiano e si occupa di aiutare donne vittime di violenza da parte degli uomini. In questo momento più che mai penso sia importante parlare della violenza di cui le donne sono vittime di tutti i tipi di violenza, quindi non soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica ed economica. L'associazione DIRE, con più di 100 centri antiviolenza e più di 60 casi rifugio su tutto il territorio, riesce ad aiutare circa 20.000 donne ogni anno e per me era molto importante dare un aiuto concreto a questa associazione. Ho avuto modo di conoscere la Presidente e alcune delle operatrici che lavorano a questa associazione in tutti questi mesi passati e loro sono le vere eroine di tutto questo. Loro sono le persone che si occupano concretamente di aiutare queste donne e sono convinta che questo sia soltanto l'inizio di un bellissimo percorso insieme. Volevo ringraziare anche la RAI e Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.